Vince il 7-20 di LV1 maschile alla dodicesima finale alla canottieri Germignaga Luca Piazza! Canottieri Germignaga scatenata nella categoria LVB fa scorpacciate di medaglie una medaglia dietro l'altra, bella soddisfazione e sicuramente faremo una grande festa a fine anno per tutti questi ragazzi Pronti? Ci facciamo raccontare! Germignaga, vieni qua vicino a me! Luca raccontaci un po' com'è stata questa tua bella avventura al Festival dei Giovani, sei contento? Sì sì, è stato difficile durante la gara Ma cosa ti ha detto il tuo allenatore prima di uscire? Di crederci E tu l'hai fatto? Sì Qual è? A chi vuoi salutare o magari dedicare questa bella vittoria conquistata dalla canottieri Germignaga? Ai miei genitori e ai miei amici della canottieri Germignaga Grazie a voi, grazie alla canottieri Germignaga e grazie anche a tutti i coach Bravo Luca, complimenti, bravo!